ragazzi alla fine è successo nel corso di questa settimana il tribunale di new york ha emesso una sentenza con la quale ha dichiarato colpevole di aggressione jonathan majors avevamo parlato del suo caso in tantissimi altri video era stato accusato dall'ex ragazza di essere stato violento nei suoi confronti era stato addirittura arrestato dalla polizia poi nel corso delle settimane erano spuntate altre persone che avevano confermato la natura violenta dell'attore non si sapeva se avrebbe continuato il suo percorso come kang all'interno del marvel cinematic universe tant'è vero che non si sapeva se l'avremmo poi effettivamente rivisto nella seconda stagione di loki i produttori hanno dichiarato di non aver cambiato nulla del finale in base a quanto rincorso nei confronti di jonathan majors non ci credo mai nella vita ma adesso vi dirò perché ma alla fine l'attore è stato condannato ovviamente majors farà ricorso dato che al momento rischia fino a un anno di carcere che sicuramente non farà se tutto va bene dicono tre mesi di libertà vigilata ma la sentenza è fissata per febbraio in tutto questo marvel e disney non hanno perso tempo e hanno ufficialmente licenziato l'attore dal ruolo di kang ora la questione si fa sicuramente torbida e spigolosa perché le strade che marvel potrebbe percorrere sono solamente due la prima è andare a recastare majors e trovare un nuovo attore proseguire appunto con kang oppure l'altra a confermare il rumor e quindi andare avanti proprio come villain lasciare kang da parte e puntare tutto su un nuovo super cattivo l'idea che mi sono fatto io così come me l'ero fatta già da diverso tempo e che potrebbero andare a proseguire su questa strada ea conferma di questa mia ipotesi c'è il fatto che secondo quanto riportato da deadline al momento del licenziamento marvel e disney hanno rintitolato avengers kang dynasty con un semplice avengers 5 ad indicare che forse non si chiamerà kang dynasty magari ci sarà comunque kang magari ricasteranno l'attore ma sicuramente il suo ruolo secondo me verrà messo molto più secondo piano rispetto a quanto avevano previsto inizialmente anche perché diciamocelo questo kang non ha mai convinto pienamente il pubblico nella prima stagione di loki compariva in questa sua variante di colui che rimane mi fa ridere che alla fine comunque lui non sia rimasto ma comunque si era piaciuto soprattutto perché era l'incipit del kang che avremmo dovuto vedere il vero kang è poi arrivato in quantum mania ma come ben sapete quantum mania è stato un flop allucinante e quel kang lì portato da majors in base a tutta la struttura del film non hanno convinto assolutamente il pubblico è arrivata poi la seconda stagione di loki abbiamo visto victor timely che come ben sapete ve l'avevo già parlato anche durante le reaction nelle analisi degli episodi non mi è piaciuto per niente è stato la cosa che meno mi è piaciuta di questa seconda stagione di loki che comunque ha spaccato ma il bello di questa stagione di loki è soprattutto da riportare in loki soprattutto nel riportare nel finale in come si va a concludere la storia del suo personaggio nessuno ricorda la seconda stagione di loki per victor timely e quindi marvel potrebbe effettivamente decidere di lasciare kang in panchina e proseguire magari con il prossimo villain che è il rumoreggiato dottor destino anche perché come già vi avevo detto nell'analisi dell'ultima puntata della seconda stagione di loki per me la storia di kang potrebbe essere tranquillamente chiusa perché nel finale della seconda stagione di loki ci viene fatto intendere che il nuovo scopo della tva il nuovo obiettivo è quella di tenere a bada le varianti di kang e addirittura nel finale vanno a citare quanto è successo in quantum mania e viene tutto descritto come un problema che si è risolto da solo quindi ragazzi io non andrei completamente a discludere il fatto che ad un certo punto ci andranno a dire guardate loki è diventato il dio delle storie ci sono sì le varianti di kang ma vengono tutte controllate dalla tva il cui unico scopo ormai è quello tenere a bada tutte le varie varianti di kang e tutta questa roba qui è tenuta sotto controllo e possiamo passare oltre anche perché un personaggio come kang non credo che sarebbero andati ad ucciderlo nell'arco finale della sua storia perché come ci viene detto già all'inizio è impossibile sostanzialmente uccidere tutte le varianti di kang in tutto il multiverso quindi secondo me il personaggio sarebbe stato un contenuto anche alla fine del suo arco temporale dell'arco della sua storia così come era stato previsto inizialmente e secondo me a differenza di quello che hanno detto loro hanno cambiato finale non hanno rigirato scene con jonathan majors ma hanno riscritto un po la struttura della tva anche perché se ci pensate di victor timely alla fine di loki 2 non ci viene detto più niente si ci viene fatto intuire con la scena appunto di lui bambino che la variante di victor timely non diventerà mai victor timely perché ravonda non è andata nel passato a consegnarli la guida della tva e quello secondo me è un altro segnale per dirci ragazzi loro tengono tutto a bada kang ce la siamo levati e ammetto che un po mi dispiace perché kang comunque è un personaggio nei fumetti è un personaggio veramente assurdo fa delle robe incredibili mi dispiaciuto per esempio tantissimo che in quanto mania non abbiano fatto vedere le tasche temporali che sono appunto questa sorta di tasche che lui apre nel tempo nello spazio da cui tira fuori tutte le sue armi però ripeto questo kang non ha convinto praticamente nessuno se non una fetta minore del pubblico quando è uscita la notizia ho fatto il post su instagram molti mi avete detto è però mi dispiace mi dispiace anche a me però non andrei a discutere completamente il fatto che lo possano mettere effettivamente da parte nel caso così non fosse comunque c'è da fare recast c'è da fare recast i fan già all'epoca della prima stagione di loki volevano denzel washington come variante un pochino più anziana di kang non abbiamo avuto questa cosa perché quanto mania nel finale ci ha fatto vedere che tutte le sue varianti avevano la faccia di jonathan majors che comunque indipendentemente da come andrà a finire la sentenza del 6 febbraio sicuramente ha la carriera finita per non dico sempre ma sicuramente per i prossimi anni anche perché ripeto disney l'ha ufficialmente licenziato ed è un discorso secondo me ancora più grave quello che è successo a majors rispetto a quanto caduto i tempi con james gunn quindi dubito che lo vadano a riprendere e quindi c'è anche da vedere nel caso chi possa interpretare kang nel futuro a me denzel washington non dispiacerebbe qualcuno mi ha detto è mai troppo vecchio sì ok c'ha 70 anni ma non penso che kang sarà così come non sarebbe dovuto essere un personaggio che ci saremmo portati poi dietro per anni e anni ok che probabilmente con tutto sto casino il prossimo avengers che ormai non si sa più se kang dynasty o avengers 5 chiamiamolo avengers 5 sicuramente non lo vedremo prima del 2026 e a meno che non vadano ancora a posticipare le cose altri due anni e il buon denzel washington li può aspettare nel caso e già prima di tutto il casino io ero molto dubbioso del fatto che ci saremmo portati kang anche in secret wars potrebbero tirare effettivamente dentro destino si mi spiacerebbe vedere subito destino si soprattutto se dovessero introdurlo magari prima del film dei fantastici 4 spero che ci facciano vedere prima il film sulla appunto famiglia di casa marvel e poi nel caso ci introducano destino anche se come ho detto un sacco di altre volte io come primo villan dei fantastici 4 vorrei qualcuno di non dico insulso ma non direttamente non subito destino galactus io puntavo tantissimo sull'uomo talpa era una un villan che non hanno ancora mai portato in live action sarebbe figo da vedere gestire magari vanno appunto a ricreare l'iconica cover del primo numero dei fantastici 4 durante durante il film vediamo come si evolverà il tutto meno male che non hanno fatto questo video così come volevo subito dopo la notizia perché poche ore dopo la condanna nei confronti di majors è arrivato comunicato da disney con il quale ha licitato ufficialmente l'attore rimane da capire cosa farà marvel nel futuro io con tutto il casino di majors con i rinvi gli eventuali tagli di serie roba nuova che devono aggiungere in corsa terrei con grande attenzione l'arrivo del san diego comic con poi il prossimo anno a luglio perché dovrebbe essere sulla carta il primo grande evento dove marvel potrebbe dire cose e secondo me sarà un panel molto interessante l'idea che mi sono fatto che ci presentino una timeline non dico completamente diversa rispetto a quella che ci hanno mostrato tempo fa ma secondo me molte cose andranno andranno a cambiare soprattutto andranno ad inserirsi nel mezzo ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi tutta questa storia soprattutto se lato vostro preferireste un recast di kang e andare avanti appunto con il personaggio oppure vi siete stufati non vi è piaciuto nulla di quello che avete visto e vorreste passare passare oltre magari non direttamente a destino qualcuno di qualcuno di mezzo magari ecco se dovessi scegliere un villain per la prossima fase che non deve essere per forza destino io mi concentrerei sulla parte urbana farei tutto un mini ciclo di un paio di film e serie tv che vedono come villain principale kingpin kingpin che magari diventa sindaco di new york a capo di tutta la malavita new yorkese non sarebbe affatto male e ci porterebbe secondo me un po' coi piedi per terra ed è una cosa che io apprezzo sempre abbiamo avuto viaggi nel tempo roba super cosmica galattica multiversi in questo momento che la questione multiversi è ancora aperta la devono assolutamente chiudere perché comunque anche in doctor strange 2 nel finale lui parte via con clea ci sono i casini di spider man way home quindi quella parte lì andranno sicuramente a chiudere con secret wars ma se in mezzo mi danno un paio di progetti relativi all'ambiente urban con kingpin a capo per esempio io spider man 4 vorrei che fosse incentrato su questa cosa qui si staccasse da quanto successo appunto in new york con la questione multiversale non mi dispiacerebbe per nulla anzi quindi ragazzi mi raccomando sotto i commenti fatemi sapere cosa ne pensate e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video ciao